Quest'uomo non dovrebbe essere famoso, eppure nonostante tutto quello che ha fatto, ci sono persone che lo ammirano, che lo mettono su un piedistallo e che lo sostengono. Si chiama Issei Sagawa e, almeno in occidente, è conosciuto come il cannibale di Kobe. Ciao, belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e mangiare qualcosa che non sia carne umana perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. La storia che vi racconterò oggi è talmente disgustosa da dare il volto a stomaco, per questo vi dico fin da subito che questo è un caso così pesante e ingiusto da urtare la sensibilità di molti. Potreste incazzarvi, disgustarvi o anche piangere. Se volete procedere con questo video, mi raccomando, abbiate il coraggio di sentire quello che sto per dirvi. Presto capirete il perché. Oggi voglio parlarvi di un uomo che è stato definito da molti come un vero mostro, Issei Sagawa. Viene anche definito come serial killer, anche se per fortuna non si è spinto così oltre con i suoi crimini. Viene comunque definito così perché a conti fatti avrebbe la possibilità di continuare la sua carriera criminale in ogni momento. Ma tranquilli, vi spiego tutto con ordine. Intanto, partiamo dall'inizio. Anche oggi ci troviamo in Giappone, paese che amo alla follia ormai lo sapete. Ma oltre al mio amore per quel luogo, di folle c'è anche questa persona. Issei nasce a Tokyo l'11 giugno del 1949. Proviene da una famiglia facoltosa, benestante e socialmente riconosciuta. Per farvi capire, suo padre è il presidente di un'azienda, quindi porta a casa tantissimi soldi e mantiene uno status piuttosto agiato. Come sapete, una situazione del genere in Giappone è anche sinonimo di grandissima pressione sociale e aspettative altissime nei confronti di Issei. Nonostante questo, Sagawa nasce in un contesto molto fortunato. Viene accudito, viziato e ben voluto. La sua infanzia passa nel migliore dei modi, almeno in teoria. In famiglia non sono presenti situazioni problematiche o abusive, per cui possiamo ipotizzare che sia cresciuto piuttosto bene. In realtà però un problema c'è, e non si trova in famiglia. È un problema racchiuso dentro la mente di questo bambino. Issei è mingerlino e gracile, e a completare queste sue caratteristiche c'è proprio la sua mente disturbata. Non si sa il reale motivo, ma ad un certo punto della sua vita inizia a manifestare un'ossessione. Un'ossessione morbosa, maniacale e perversa. Ha voglia di cibarsi di un essere umano. Specifica però che non ha intenzioni omicide. Lui non vorrebbe togliere la vita a nessuno. Solo è curioso, vuole mangiare qualcuno. Tutto qui. Il tutto qui è tra tante virgolette, ovviamente. Perché quando si parla di cannibalismo, si sa che alle volte può portare alla morte. Comunque Issei inizia a sognare spesso di voler mangiare qualcuno, le donne in modo particolare. E durante la crescita non riesce proprio a resistere a questo desiderio sempre più forte. Come un cancro, si sviluppa dentro di lui e non riesce a smettere di pensarci. Vuole avere qualcuno da poter assaporare, in tutti i sensi. Se a questo ci aggiungiamo il classico sviluppo sessuale in età adolescenziale, ci rendiamo conto che si crea un mix davvero tremendo e pericolosissimo. Infatti questa sua macabra ossessione lo ha portato a compiere un gesto che ricorderà per tutta la vita. Tra l'altro me ne rendo conto solo ora, ragazzi, scusate per la voce, ma ho un po' di mal di gola e cose, quindi ve la beccate così. Praticamente una sera, quando Sagawa era adolescente, entrò di soppiatto nella stanza di una studentessa dell'istituto che frequentava. Si era messo addosso una maschera da mostro di Frankenstein e teneva un ombrello. Non è chiaro il perché. L'intento di Issei a quel punto non è assolutamente quello di togliere la vita alla ragazza. Tutto ciò che vuole è darle un morso sulle natiche. Vuole appunto assaporare una ragazza che gli piace. Il suo piano però quella sera non va a buon fine. La ragazza si sveglia di colpo, si mette a urlare e Issei scappa terrorizzato. Una scena quasi comica, anche se per la ragazza deve essere stato uno shock. Immaginate svegliarvi e vedere qualcuno con una maschera del mostro di Frankenstein che prova a mordervi. Strano. Ma comunque in seguito a questo inquietante episodio, le voci iniziano a circolare. Si parla di un pazzo che è entrato nella camera da letto di questa ragazza e si dice anche che potrebbe essere proprio Issei Sagawa. E a questo punto suo padre, che è un uomo molto influente nella comunità, mette a tacere ogni singola voce. Con una semplicità disarmante, in sabbia l'ha caduto e quasi tutti smettono di parlarne. Tutti se ne dimenticano. Non è chiaro se l'abbia fatto per proteggere il figlio o per salvare la reputazione della famiglia. Probabilmente per entrambe le cose. Non si sa nemmeno se per questo gesto Issei è mai stato punito dalla sua famiglia o se è stato mandato da qualche parte per farsi controllare. Cosa che, col senno di poi, sarebbe stata decisamente appropriata. Comunque non sappiamo se a quel punto Issei fosse stato controllato da qualcuno di specialista. Ma a quanto pare non ha ricevuto alcuna analisi o terapia psichiatrica. Perché negli anni successivi la sua ossessione non si placa. Anzi, peggiora. Finora, quantomeno, non ha fatto niente di male ad altre persone. Ma forse è proprio per questo che la sua voglia di mangiare un essere umano continua a crescere senza freni. Sembra una cosa viscerale, intima, istintiva. Come per noi può essere la fame comune. Le sensazioni che prova al solo pensiero di gustare parti del corpo sono per lui addirittura paradisiache. Dal profumo, al gusto, dalla consistenza, all'aspetto. La donna, nella sua testa, è una creatura da avere in tutto e per tutto. Sia come fonte di piacere, che come fonte di nutrimento. Crescendo Issei sviluppa un particolare interesse verso le donne occidentali. Le inizia a preferire rispetto alle sue conterranee. Le predilige per i tratti somatici più morbidi e armoniosi. E l'icona massima di questa sua torbida passione la ritrova nelle fattezze dell'attrice americana Grace Kelly. Di cui ovviamente diventa presto un morboso ammiratore. Per tutti questi motivi non resta a lungo in Giappone. È proiettato verso altri tipi di prede per saziare la sua brutale fame. E vuole tastare il terreno in prima persona. Proprio come un predatore. Caccia la sua preda. Nel 1981, all'età di 32 anni, Issei Sagawa si trova a Parigi, in Francia. Dove frequenta il corso di letteratura inglese presso l'esclusiva università della Sorbona. Ovviamente nessuno conosce la sua vera natura, nessuno sa che la sua passione sono le persone, ma viste come cibo. Per cui tranquillamente procede con la sua vita con tutta la nonchalance del mondo. E infatti durante i corsi di letteratura comparata conosce una donna bellissima. Una certa Renée Hartvelt. Renée è un attraente ragazza olandese di 25 anni. E Issei se ne innamora a prima vista. Un vero e proprio colpo di fulmine. Date le premesse però, questo non è per niente un buon segno. Per questa ragazza Issei manifesta tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Morbosità. Voglia di averla in tutti i sensi. Voglia di assaporarla pezzo dopo pezzo. Ma Renée non ha la minima idea delle fantasie che questo suo nuovo amico ha nella testa. Ne può minimamente immaginarle. E non può neanche prepararsi per quello che, purtroppo, di lì a poco sarebbe accaduto. È il giovedì del 12 giugno 1981. Durante il pomeriggio Issei Sagawa invita Renée nel suo appartamento a Rue Erlanger. Usa la scusa di ripassare alcune poesie insieme, dato che c'era un esame di fine anno. Ma, mentre sono lì, Issei registra di nascosto in una cassetta la loro conversazione. Ed era una conversazione normale, pacifica e informale. Perciò è una cosa abbastanza strana da registrare, no? Comunque tutto sta andando bene, studiano, parlano. Ma dentro la testa di Issei c'è un vulcano che sta esplodendo. Ogni sua passione perversa in quel momento si manifesta. È come una bomba azionata pronta ad esplodere. Sa che lei, Renée, non accetterà mai di essere mangiata da lui. Per questo motivo si sente costretto a compiere un gesto estremo. Un gesto di cui si pentirà. Ma solo perché avrebbe potuto fare meglio. Non perché è realmente pentito. Perciò durante il loro incontro, senza alcun apparente motivo, Issei prende una carabina calibro 22 e spara alla ragazza. La colpisce alla nuca. Lei non ha avuto neanche il tempo di accorgersene. È deceduta sul colpo. Ma solo per ovulare, sono un uccidio. Ma solo per ovulare. Quindi, con un uccidio, si è semplice. Che per l'essere, si avvicinano. Non costretto a cuore. Le potele, le potele, le potele, il cuore sulle. Il cuore il cuore. E le potele, il cuore il cuore. René ha lasciato questo mondo in fretta senza neanche capire il perché e sotto certi aspetti è una fortuna che lei non sia rimasta in vita dopo quel colpo perché i sei dopo anni di desideri inespressi trova modo di accontentare tutte le sue fantasie è in quel momento che nella sua testa si apre una strada di possibilità che fino ad allora aveva solo potuto sognare avrebbe preferito non togliere la vita a René ma solo per buttare la sua carne viva non morta è solo questo il suo pentimento intendiamoci perché in verità non vede l'ora di affondare le sue fauci in quel corpo ormai vuoto allora i dettagli su quello che le fa sono a dir poco disgustosi il problema è che non si è limitato a mangiarle basta i sei ride esulta di euforia folle e isterica e si approfitta per ben due volte di quel corpo in modo intimo purtroppo non posso riportarvi proprio tutti tutti i dettagli ma qualcosa sì sagawa in un delirio d'estasi pura e sadica taglia diverse parti e le gusta così crude zone intime comprese inizia proprio da quelle e poi passa al resto ad un certo punto assaggia la lingua della sua vittima e ne rimane a dir poco estasiato assapora gli odori metabolizza i sapori e spezza taglia e affetta di continuo una vera e propria apoteosi disgustosa in tutto ciò ovviamente i vicini sentono che sta accadendo qualcosa di strano nel suo appartamento riescono a sentire le grida di estasi di sei ma non hanno la minima idea di quello che aveva appena fatto e che stava facendo come potevano immaginarlo quel banchetto degli orrori si protrae per tutto il resto della giornata e della povera rene rimangono ormai pochissimi pezzi pezzi di quello che una volta fu il suo corpo immaginate quindi la stanza di sei completamente ricoperta di sangue aveva fatto una cosa orrenda e tutte le sue azioni disgustose hanno reso quella stanza talmente orribile da sembrare la scena di un film horror e come protagonista di questa scena c'è proprio i sei che ha saziato una fame che lo tormentava sin da bambino fa davvero venire i brividi pensare per un attimo con la sua testa pensare che tutto quello che ha fatto per lui sia stato giusto necessario e ancora peggio piacevole un vero e proprio sfogo animale senza alcun pudore e ritegno per cui è arrivato al venerdì 13 giugno 1981 i sei ha ormai terminato di gustare tutto quello che poteva gustare dire ne sono rimasti pochi resti immangiabili anche per lui e da buon criminale deve disfarsene occultati resti della vittima in ben due valigie si reca nel bois de boulogne e le abbandona le getta letteralmente lì da queste già cominciava a fuoriuscire il sangue di rené e persino il tassista che lo ha ascoltato in quel luogo si è reso conto che c'era qualcosa che non andava questo individuo era strano e quei bagagli lo erano altrettanto a peggiorare le cose per lui una coppia lì di passaggio nota che ha accettato quelle valigie ed essendo una cosa che di solito la gente non fa due domandine se le sono fatte giustamente ebbene dopo aver fatto questo i sei si reca in un ristorante come se niente fosse evidentemente aveva ancora fame in un modo o nell'altro la scomparsa di rené viene segnalata e le ricerche vengono fatte come di consueto collegare i sei a quell'omicidio non è stato affatto facile ma grazie ad una pista rintracciata da quei testimoni ovvero la coppia di passaggio il tassista e i titolari del ristorante si riesce per fortuna a risalire al colpevole la polizia quindi lo arresta senza problemi perché i sei non oppone alcuna resistenza ma la storia ragazzi non è finita qui da lì in poi l'intera vicenda diventa uno scandalo mediatico la notizia gira così tanto che gli vengono affibbiati dei nomignoli come il killer giapponese oppure il mostro di parigi e così via la faccenda per lui si mette male ma la affronta con una pacatezza sconcertante e la giustizia francese non ha alcuna pietà con lui dopo la sua confessione Issei Sagawa viene incriminato per omicidio colposo e incarcerato nella prigione parigina della Santé Cet homme è un anthropophage il s'appelle Issei Sagawa jeudi dernier il ha tué d'une balle dans la tête sa camarade de faculté René Hartveldt d'une hollandaise de 25 anni poi il ha dépensato il corpo, l'ha conservato chez lui jusqu'à samedi soir e pendant ces due giorni a plusieurs reprises il ha mangato dei morcei della chair di sua victima. Lorsque le polici l'ont arrêtato hier soir il sembra tutto finito no? Il colpevole è dietro le sbarre e sono tutti sollevati ma non è affatto così purtroppo la storia non termina a questo punto e le cose anzi da adesso in poi iniziano a farsi davvero assurde in un certo senso forse ancora più terribili. Il 30 marzo del 1983 il tribunale di Parigi dichiara che Issei è incapace di intendere e di volere e lo considera mentalmente deviato e instabile. Per questo motivo viene spostato dal carcere e viene inviato all'ospedale psichiatrico Enric Hollen di Viljuif. Rimane in questo luogo di cura fino al 22 maggio del 1984. Esatto. Solo pochi mesi. E questo perché, tenetevi forte, il padre di Issei si fa vivo e lotta in difesa di suo figlio. In qualche modo non proprio chiarissimo riesce ad ottenere l'estradizione di Issei che viene così liberato dalle autorità francesi. E questo nonostante le incessanti proteste della famiglia della vittima. Proteste più che lecite. Ma nonostante tutto Issei torna in Giappone e viene internato nella clinica Matsuzawa. Lì rimane per poco più di un anno, circa 15 mesi, e nell'agosto del 1985 viene rimesso in totale libertà. Quindi non so se sono stato chiaro ma in sintesi un brutale assassino cannibale è stato arrestato e messo sotto cure psichiatriche per poco più di un anno. Subito dopo è tornato tra la comunità come se nulla fosse. Come se non avesse mai commesso uno dei peggiori crimini che esistano. E se tutto questo vi sembra assurdo, purtroppo non è ancora finita. Oltre ad aver ottenuto una totale libertà, Issei ottiene anche una certa fama. Ebbene sì, diventa famoso proprio per ciò che ha fatto. E lui è ben felice di raccontare la sua esperienza tra varie interviste, apparizioni in film per adulti e così via. Pensate che diventa persino uno scrittore di successo. Pubblica anche un manga, ormai diventato quasi introvabile, dove racconta il suo punto di vista circa quello che è successo. E in questo modo riesce a spiegare tutte le sue disgustose sensazioni che ha provato durante quell'orrido gesto cannibale. Attualmente si dedica al giornalismo ed è spesso ospite in molti talk show. Lavora molto su casi di serial killer e gode di una certa rispettabilità, ovviamente contestualizzata nella sua fama nera che lo contraddistingue. Ma questo non gli pesa più di tanto. Ha fatto carriera grazie al suo delitto e ci marcia ancora a distanza di anni. Ovvio che tutto questo lo ha fatto e lo sta facendo solo in Giappone perché è difficile immaginare la stessa situazione in Francia o in realtà in qualsiasi altro paese dell'Occidente. E qui torniamo ad una frase che vi ho detto all'inizio del video, ovvero che Issei viene identificato come serial killer nonostante abbia ucciso una sola persona. Il problema è che potrebbe potenzialmente ripetere un gesto simile. È a piede libero e completamente indisturbato, nonostante i riflettori puntati addosso. Per farvi entrare ancora di più nella sua mente vi leggo alcune sue recenti dichiarazioni. Sentite. Il desiderio di mangiare le persone diventa intenso intorno al mese di giugno, quando le donne iniziano a indossare meno vestiti e a mostrare più pelle. Proprio oggi, mentre andavo alla stazione dei treni, ho visto una ragazza con un derriere davvero carino. Quando vedo cose del genere, penso di voler mangiare di nuovo qualcuno prima di morire. Quello che sto dicendo è che non posso sopportare il pensiero di lasciare questa vita senza aver mai assaggiato quel derriere che ho visto stamattina, o le sue cosce. Voglio mangiare di nuovo mentre sono vivo, così da poter essere soddisfatto almeno quando morirò. Sono un po' scioccato. Comunque nei suoi 20 libri ha raccontato la sua condizione patologica e diagnosticata. E semplicemente non può farci nulla. È davvero un desiderio troppo impellente. Per questo fa rabbia sapere che una persona clinicamente antropofaga, che si è ammacchiata di uno dei crimini peggiori, sia libera di circolare per il Giappone. Nel suo ultimo libro intitolato Extremely Intimate Fantasies of Beautiful Girls, dice di sperare che la gente inizi a non vederlo più come un mostro, cosa evidentemente difficile da realizzare. Di lui ormai si sa che adesso si trova in uno stato di impotenza sessuale. Questo suo desiderio antropofago nasce a quanto pare da un impulso carnale, ma essendo giunto in un punto dell'età dove questo impulso viene a mancare, forse verrebbe a mancare quella fame tanto pericolosa. Il problema è che sembra non essere così. Stando a quanto rivelato in un'intervista, i sei teme che proprio a causa di questa impotenza potrebbero eventualmente riaffiorare in lui quelle macabre tendenze. Sente che ormai i suoi giorni stanno arrivando al termine e vorrebbe provare a colmare almeno un'ultima volta quell'appetito diabolico così da andarsene soddisfatto. Ora, ci sarebbe da commentare questo caso per ore. È semplicemente assurdo quello che è successo. Il sei, a conti fatti, è una delle persone più spaventose del mondo ancora in vita e a piede libero. Ovviamente si spera che crimini del genere non li compia mai più. Ma data la fama, le possibilità che gli hanno offerto e l'assoluta libertà che gli hanno concesso, viene da sé pensare al peggio. Non so, questo caso è molto strano perché mi fa provare sensazioni contrastanti. Una parte di me lo vede come un mostro che dovrebbe essere rinchiuso in una cella, così come l'hanno dipinto i media. Ma l'altra parte di me si rende conto che si tratta di una persona con un disturbo psichiatrico diagnosticato. Dovrebbe quindi essere presa in cura e tenuta sotto stretto controllo medico. In ogni caso, penso che il suo posto nel mondo debba essere in qualche clinica specializzata. Si sa che il cannibalismo rientra nell'enorme spettro delle parafilie e come tale dovrebbe essere trattato. Di sicuro non trovo giusto che sia totalmente libero di fare ciò che vuole, è una persona indubbiamente pericolosa per gli altri e dovrebbe quantomeno essere tenuta sotto osservazione. Ma non lo so ragazzi, queste sono solo le mie opinioni, ovviamente fatemi sapere le vostre. E tornando a noi, è inutile dirvi che la famiglia della vittima, Renée, è devastata da questa situazione. È totalmente distrutta e impotente, non può fare letteralmente nulla. Forse, se cerchiamo di vedere un po' di buono in tutto questo, si può pensare che Issei sia in realtà guarito, tra virgolette, e che questa sua carriera da scrittore sia solo un modo per esercitare ed esternare un suo demone interiore. Ma stando alle sue ultime dichiarazioni, ovvero quelle che vi ho detto prima, viene da sé ipotizzare che dentro la sua testa non sia cambiato molto. Issei rimane una persona problematica e pericolosa oltre ogni limite. Tutt'oggi non sembra essere pentito del suo gesto né tantomeno addolorato dalla fama che sta ricevendo. Lucrando sopra un atto terribile, Issei conduce la sua vita da libero cittadino giapponese. Per cui state attenti se andate a Tokyo, perché potreste trovarvi davanti proprio lui. Per il momento, questa sembra essere la fine della storia di oggi, e se vi ha scioccato almeno un pochino, considerate l'idea di iscrivervi al canale perché, oh mio dio, ho tante altre storie da raccontarvi. Io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto ragazzi, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei, e niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao! Grazie!